Benvenuti in un nuovo video arachnofili! Oggi parliamo di un coltello della Spiderco snobbatissimo, ma pochissimi lo conoscono o meglio, forse lo conoscono per un aneddoto perché questo coltello è stato prima presentato in un certo senso sui forum e poi è stato bloccato il rilascio per poi essere rivalutato, mandato a Taichung a Taiwan e ho fatto un nuovo coltello proprio in fibra di carbonio il primo era infatti in G10 vi lascio a questo nuovo video e parliamo un po' dello Spiderco Reinhold Rhino conosciuto con il codice SCU C210 eccolo qui, CFP apriamolo un po' e vediamo un po' cosa c'è dentro ovviamente è il solito foglietto illustrativo e descrittivo del Spiderco Rhino eccolo qui, ma ne parliamo a breve in italiano e non in inglese ed eccolo qua, è bellissimo è molto piccolo poi magari ve lo faccio vedere in confronto a un altro più conosciuto da che uso è questo qui la clip che è ambidestro come vedete la clip può essere messa qui o qui e guardate che cattivo come design bellissimo qui c'è il logo di Reinhold eccolo qua e quindi iniziamo a parlare del C210 c'è da dire che è stato progettato da un membro del forum Spiderco con il soprannome di Spider Nut Spider Nut e quindi ragno forse ragno ragno nocciolina forse la traduzione in italiano progettato da Michael Reinhold e questo è il suo nome Reinhold il Reinhold Reinhold offre una forza impressionante e prestazioni di taglio in un pacchetto molto compatto piccolissimo e il suo manico ergonomico accuratamente arrotondato combina il manico in G10 testurizzato alle fodere in acciaio inossidabile annidate per offrire una presa comoda e riempitiva per le mani e ovviamente stiamo parlando della prima uscita quella in G10 è anche sede del meccanismo brevettato con pressure lock di Spiderco che fornisce un'estrema forza nel blocco e un facile utilizzo con blocco e sblocco con una sola mano la lama ampia in acciaio inossidabile CTS BD1 è full flat offre molto bordo nella sua lunghezza e taglia con autorità ben oltre le sue dimensioni comodo il trasporto il Reinhold include una clip reversibile che fornisce un trasporto ambidestro ribaltabile e un foro per cordino per un facile fissaggio di cordini appunto e portachiavi e la descrizione che avete qui sentito è ovviamente relativa al primo Spiderco Rhino che doveva essere immesso sul mercato ovviamente questa è la seconda uscita invece in CFP in carbonio in fibra di carbonio e ha la lama in CTS XHP ha comunque il foro per il cordino ed è diverso molto molto diverso c'è da dire un'altra caratteristica che il C210 Rhino non è mai stato inserito nel catalogo online di Spiderco ma cosa ha detto Sal Glesser come ha giustificato il loro fallimento per l'uscita del primo Reinhold Rhino il design di Rhino ha avuto un'interruzione così dice Sal la spedizione è arrivata e non soddisfaceva le specifiche del controllo di qualità e l'intero lotto non è stato immesso nel mercato mi scuso con il designer è un bel design e speravamo di averlo in uscita molto tempo prima questa però non è la prima volta che un progetto non soddisfa i nostri requisiti di controllo di qualità ed è sempre un ostacolo ma riteniamo di dover offrire ai nostri clienti e ai nostri designer la migliore qualità possibile l'intera uscita di 1200 pezzi è in fase di rifacimento ecco perché non mi piace annunciare in precedenza il rilascio di un nuovo modello fino a quando non passa attraverso il controllo di qualità quindi è successo che evidentemente non ha superato il controllo di qualità che permette a uno spiderco di uscire sul mercato e poi è stato appunto rivisto rivisitato con questo nuovo spiderco rino con la fibra di carbonio e un nuovo design sempre accattivante ma utile di qualità e do un po' di misure del coltello il peso è di 71 grammi quindi leggerissimo la lunghezza totale è di 151 millimetri la lunghezza della lama è di 6 centimetri la lunghezza da chiuso è di 9 centimetri virgola 1 e lo spessore della lama è di 3.5 millimetri ma va ad assottigliarsi in punta e adesso un po' di comparazioni vi ho preso un po' di spiderco per fare un po' di comparazione ve lo faccio vedere dall'altro in basso abbiamo il manbug e il ladybug che sono piccolissimi vedete che la luce sta facendo i capricci manbug e ladybug e sopra il paramilitari vedete è molto molto piccolo però la lama come vedete essendo tipo allargata il filo essendo comunque a curva ha comunque un filo appunto di lunghezza superiore rispetto a quanto dovrebbe essere quindi riesce a tagliare ben oltre la lunghezza della lama eccolo qua ve lo metto insieme praticamente è quanto il manico del paramilitari in grandezza eccoli qui molto molto piccolo e molto molto aggressivo vediamo un po' come taglia abbiamo come sempre il nostro foglietto vediamo un po' potete vedere che è di fabbrica affilatissimo guardate la punta cattivissima ok questo dunque è la storia dello spiderco rhino uno spiderco creato da un designer del forum di spiderco che ha avuto un sacco di peripezie per poter essere diciamo immesso nel mercato ma che poi è uscito con questo bellissimo design e con questa bellissima lama al prossimo video dal vostro doc